Siamo qui con Giuseppe Battaglia, il capitano dell'ASD Calciotavolo. Il Subuteo. Molti, soprattutto i più giovani, probabilmente non sanno neanche di cosa stiamo parlando. Un gioco, uno sport, ce lo spieghi sinteticamente a chi è estraneo al mondo del Subuteo? Il Subuteo è nato oramai diverso tempo fa. Se vogliamo risalire alle vere origini stiamo addirittura agli inizi del Novecento. Diciamo che la versione commerciale ha cominciato a girare in Europa e in Italia intorno agli inizi degli anni Settanta. E' un gioco che in quanto calcio ha preso molto piede nell'ambito della nostra generazione, quando eravamo ragazzi, quando non c'era tanta roba elettronica con cui giocare. Giuseppe, la tua passione, la vostra passione, quella della tua squadra, della quale sei il capitano, è una passione che era assopita e tornata? Hai sempre giocato a Subuteo? Ci sono stati momenti in cui l'hai abbandonato? Io diciamo che la vedo come un vulcano, la lava sotto è sempre attiva per inevitabili vicissitudini di vita. Ognuno di noi ha giocato da ragazzo, ha giocato fin quando è andato a scuola, poi inevitabilmente ha dovuto smettere. E poi vengono fuori quelle situazioni anche casualmente, per cui ci si rivede, si rinomina il Subuteo, ora calciotavolo, e si decide, come abbiamo fatto noi nel 2009, di costituire un club e quindi di farlo in maniera agonistica, come non si era fatto tra l'altro da ragazzi, insomma, la maggior parte di noi a livello agonistico da ragazzo non ha mai giocato. Mi hai anticipato la prossima domanda, l'associazione, mi hai detto quando nasce, quindi vi siete ritrovati, è nata, quanti membri conta? Allora, adesso siamo una decina di persone e non stiamo avendo l'incremento che speravamo in questo momento, ma probabilmente perché è venuta a mancare la nostra sede. Quello che abbiamo intenzione di fare adesso, nel momento in cui troveremo un nuovo luogo dove riunirci e non nelle nostre case, abbiamo intenzione di avviare un centro giovanile, quindi avviare le attività per gli under 12, under 15, under 19, e continuare anche noi chiaramente a giocare, perché no a migliorare, a cercare di portare Foggia in qualche categoria superiore. Nel calcio c'è la Serie A, la Serie B, le Coppe Italia, le Coppe internazionali. Nel mondo invece del calciotavolo? Allora, nel mondo del calciotavolo in questo momento ci sono quattro serie, c'è la Serie A a 10 squadre, Serie B a 10 squadre, Serie C a 10 squadre, tutte le altre sono in Serie D. Ogni anno si disputa nell'ambito di due weekend il campionato delle varie categorie, ci sono due promozioni e due retrocessioni per categoria. Noi siamo in Serie D, speriamo di fare qualche buon risultato adesso. Per quello che riguarda invece i tornei individuali, c'è un ranking nazionale, un po' come il tennis. In questo ranking poi ci sono dei punteggi che ciascun giocatore accumula, a secondo dell'importanza del torneo dove va a partecipare e a secondo del piazzamento che ha avuto in quel torneo. Ranking che così, proprio come l'ATP del tennis, dura 12 mesi. A proposito dei torni individuali, mi parlavi di un campione del mondo che abbiamo qui anche nell'associazione. E' Foggiano, non lo abbiamo ancora in associazione, si è Massimiliano Schiavone che ha giocato già in Serie A col Bari diversi anni, adesso lui milita in Serie B con il subuteo Ascoli e lui è stato praticamente selezionato per i campionati del mondo di Dortmund del 2006 per il torneo a squadre over 40 e insieme ad altri, tra virgolette, ragazzi hanno vinto il titolo mondiale battendo il Belgio, proprio a Dortmund. Nello stesso anno e nello stesso periodo in cui l'Italia poi ha vinto i mondiali. Un periodo fortunato. Giuseppe, prossimi appuntamenti, sappiamo di un torneo importante qui, quando e come si svolgerà? Il prossimo appuntamento più importante questa volta è proprio a Foggia, il 3-4 novembre. Noi organizziamo per il quarto anno consecutivo il Super 9. Super 9 per intenderci è la categoria dei nove tornei più importanti, quelli che nell'ambito nazionale danno più punti di tutti. Abbiamo già avviato la macchina organizzativa, faremo questo torneo il 3-4 novembre alla palestra Taralli. Possiamo estendere l'invito a chiunque voglia venire a vedere? A chiunque voglia venire a vedere sicuramente, è un'occasione importante anche per avvicinarsi, per conoscere un po' meglio. Anzi, se qualcuno si deve avvicinare io consiglierei di portare i propri figli, perché è uno spettacolo veramente particolare da vedere. Noi faremo il sabato il torneo a squadre, mentre faremo la domenica il torneo individuale. Giuseppe, allora noi ti ringraziamo e ridiamo l'appuntamento a tutti il 3-4 novembre alla palestra Taralli, giusto? Sì, sicuramente. Volevo anche cogliere l'occasione a questo punto per dire a coloro i quali vedono questo servizio di seguirci anche sulla pagina dell'ASD Foggia Calciotavolo di Facebook, dove troveranno anche notizie e aggiornamenti in tempo reale sul torneo che stiamo andando a organizzare e sul nostro sito www.foggiacalciotavolo.it Perfetto, grazie di tutto. Grazie a voi.